E ce ne andiamo a Frigene? Portate solo il dispensabile! Non dimenticate assolutamente le cartine! Io vado! Certo che dover andare a pisciare per le analisi deve essere una bella rottura! Non sai neanche quanto, guarda! E questo? L'antifurto al cavallo! Certo, cosa pensi? Figurati, altrimenti me lo fottono qua! Ma che mi è già successo? Eh, figurati che me ne hanno fottuti due! Te, piuttosto! Te lo sai quanto costa un cavallo? Cento euro! Cento euro non ci compri neanche la merda del cavallo! Ma a voi giovani, tutte queste cazzate, chi è che ve le dice? Eh? Dov'è che le sentite? Si può sapere? Hm? Oh! Non è che... Tu guardi il TG4? Ma ecco... Bai! 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 I'm loving it!